Questo è il panorama che potete ammirare da questa villa a Nova Feltria. Potete ammirare tutta la profondità dell'Alta Val Marecchia. In questa posizione super esclusiva in centro a Nova Feltria questa casa domina su tutto il paese. Guardate i dettagli e le rifiniture di questa casa assieme a me. Guardate i dettagli questo piano a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.